ogni giorno passavo di corsa davanti alla vetrina la borsa era sempre lì a guardarmi ma io non avevo mai tempo di fermarmi quella domenica invece no davvero bella la mia nuova borsa ho voltato l'angolo e c'era un concerto lì chi vedo federico due chiacchiere e poi raggiungiamo gli amici per bere qualcosa quante cose da fare in centro alla domenica shopping musica amici aperitivo e pensare che avrei voluto andare anche a vedere una mostra una buona occasione per tornare no grazie a tutti